Oggi è il compleanno dell'amica Minghi, le organizziamo una bella festa e una sorpresa che non si aspetta, quanti bei regali, quanti bei regali. Tutti i miei amici prepareranno una bella torta con le candeline, l'uco si diverte partecipando, siamo quasi pronti, siamo quasi pronti. Mimmi è felice della festa, quanti pensierini, quanti regali, ora c'è la torta con le candeline, soppia più forte, soppia più forte.